Ciao a tutti amici di CrashTV e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Oggi c'è un video molto particolare perché l'altro giorno mentre stavo creando una mappa Nel menu mi è apparsa una partita online e quindi ho potuto partecipare a questa partita Dove c'erano tipo 5 o 6 giocatori Quindi ho detto siccome vanno sempre in tendenza i video di griffing e troll agli altri giocatori Facciamolo anche noi così indimo in tendenza e facciamo le views E quindi in questo video siccome non ho avuto modo di registrare con le cuffie Andrò a commentare questo griffing e quindi spero che il video vi piaccia Ad ogni modo quindi appena sono entrato in questo mondo era notte Così ho detto facciamoci subito un piccone, prendiamo della pietra così ci craftiamo gli attrezzi principali Quindi dopo aver craftato un piccone, una spada, un ascio, una pala Sono partito siccome avevo una mappa verso la direzione degli altri giocatori Erano veramente molto distanti dal punto di spawn Così ho ucciso un po' di animali e con una fornace sono riuscito a procurarmi un po' di cibo Quindi bistecche e sono riuscito a trovare la loro casa una volta che sono arrivato in cima a una montagna Ed era una specie di casa dentro una montagna fatta tutta di legno E questa è una caratteristica molto importante perché se di legno brucia tutto molto facilmente Così sono sceso dalla montagna cercando di non morire e mi sono avviato verso la loro postazione Una volta che ero molto vicino ho iniziato a scavare in profondità E mi sono detto che se riuscivo a trovare del ferro e del flint potevo fare un accendino Cosa che avrebbe distrutto tutto E quindi ho scavato un po' veramente, veramente tanto Ho scavato veramente tanto E dopo aver trovato il ferro ho fatto un accendino E mi sono ritrovato mentre scavavo esattamente sotto la loro base Così ovviamente restando shiftato così non vedevano la targhetta del mio nome Sono riuscito ad entrare in una specie di miniera collegata alla casa E non sono passato dalla porta principale ma ho scavato nella parete E ho chiuso la strada dietro Ok una volta chiusa la strada ho incominciato a scavare col piccone verso l'alto E ho visto le targhette dei loro nomi dei giocatori che erano veramente vicinissimi Così ho scavato un po' e sono riuscito a entrare nella casa Così non c'era nessuno e ho subito dato un po' di colpi di acciarino E ho bruciato tipo tutto un piano E così il piano stava cominciando a prendere forma E decisi di entrare nella casa qua sotto che state venendo adesso Tutto procedeva bene così ho anche distrutto una cesta e gli ho bruciato tutta la roba E tutto procedeva bene fino a quando non arrivo a lui Run E niente quindi è finita così sono stato anche bannato da quel server E quindi questo era un video prova Un video di prova per vedere se questa serie vi potrebbe piacere sul canale Come sempre se il video vi è piaciuto spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale Scrivete nei commenti se volete una serie sul griffing E noi ci vediamo in un prossimo video su Crash TV E noi ci vediamo in un prossimo video